La sanità è una delle competenze di maggiore rilievo dell'ente regione. Viviamo il dramma delle liste d'attesa, dei pronto soccorso chiusi, dei reparti chiusi, degli ospedali chiusi. Il paziente, il cittadino paziente contribuente deve essere rispettato e deve essere considerato nella sua dignità di uomo, di donna, non di numero. Ne parliamo con il dottor Vito De Palma, candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia. Io penso che lo scempio che oggi esiste sul sistema sanitario pugliese è sotto gli occhi di tutti. Basterebbe che ogni cittadino facesse una propria riflessione se il sistema sanitario tarantino della provincia di Taranto, e in generale, ripeto, quello pugliese soddisfa le proprie esigenze, allora significa che probabilmente la mia analisi è sbagliata. Ma io penso di parlare a tutti i cittadini che hanno avuto a che fare soltanto per qualche secondo con il sistema sanitario e si è accorto di quello che non è sanitario il nostro sistema. È un sistema che guarda solo e soltanto ad un sistema di attenzioni magari ad altri interessanti settori, magari quelli del consenso, e non a quelli propriamente del bisogno del cittadino. Tu hai già rappresentato prima la storia del CUP, la storia dei reparti che chiudono. Pensare per esempio che il reparto di terapia intensiva neonatale, che è uno dei più importanti non solo della Puglia, ma di tutto il Sud Italia, possa essere trasferito in quel di Bari solo perché la programmazione, la pianificazione della ASL non ha pensato a rafforzare di professionalità questo reparto, è qualcosa veramente di grave. Pensare che oggi, agosto, quindi nel pieno turismo tarantino, le guardie mediche turistiche lungo il litorale non siano state attivate, parliamo di cose banali, non parliamo di cose molto più importanti. Allora oggi sulla sanità vi è la necessità di cambiare totalmente registro. Questa cosa la si può fare lasciando a casa Emiliano, lasciando a casa tutto il sistema sanitario messo su da Emiliano e magari rettificato una settimana prima del voto con la modifica del piano sanitario e soprattutto dando la possibilità di riprendere un percorso che possa consentire ai cittadini di guardare alla salute come un proprio diritto.